Avrebbe fatto oltre 300 telefonate all'Enel per segnalare un guasso non riscontrato dai tecnici e avrebbe allertato i vigili del fuoco per una fuga di gas poi non rilevata. Per questo una donna 34enne del Casentino è finita a processo per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme ed è stata condannata dal Tribunale di Arezzo ad otto mesi di reclusione. Il processo si è concluso lo scorso venerdì e secondo quanto ricostruito in aura la donna dal luglio 2020 al gennaio 2021 avrebbe chiamato 333 volte a Enel segnalando un guasso all'illuminazione pubblica. Le telefonate per 162 volte avrebbero provocato l'intervento di una squadra sul posto per verificare il guasso che però non sarebbe stato rilevato concludendo le uscite con esito negativo e constatando la regolarità dell'illuminazione. Nel luglio 2020 la donna poi avrebbe chiamato anche per una fuga di gas i vigili del fuoco che però sul posto non avrebbero riscontrato alcun problema. Denunciata la 34enne adesso ha affrontato il processo di fronte al giudice monocratico e sulle accuse di interruzione di pubblico servizio per i guasti segnalati ad Enel e procurato allarme per la richiesta di intervento ai vigili del fuoco è stata condannata.